What's up my slimes, qui all, bentornati nel mio canale. Eccoci qui con un nuovo video e oggi parliamo di 21 Savage. Era da tanto che non uscivano video di questo format, come sempre se vi sta piacendo vi invito subito a lasciare un mi piace e un commento e detto questo parliamo dell'artista in questione. Shea Bin Hebram Joseph è nato il 22 ottobre 1992 a Londra. Entrambi i genitori hanno origini caraibiche e insieme alla mamma all'età di 7 anni si trasferisce ad Atlanta in America. Durante il 7th grade, che da noi dovrebbe corrispondere alle scuole medie, viene bannato da ogni scuola nel distretto di Decalde County per possesso d'arma da fuoco. Pensate un po' alle scuole medie, già questo vi fa un attimo capire che tipo era 21 da piccolo. Viene mandato in un centro di detenzione minorile e una volta uscito riesce anche a completare l'8th grade, solo che durante l'anno del diploma abbandona gli studi. Questo segna un passaggio importante nella vita di 21 Savage perché subito dopo decide di unirsi a una gang di strada affiliata ai Bloods, iniziando a diventare a tutti gli effetti uno spacciatore. Oltre a vendere per lo più marijuana, commette anche altri crimini come rapina, furto di macchine e robe del genere. Nel 2011, durante una sparatoria, poteva avere un 19 anni, subisce la perdita di Larry, quello che possiamo definire il suo braccio destro dei tempi. Mentre nel 2013 invece, il giorno del suo ventunesimo compleanno, pensate un po', viene sparato sei volte da una gang rivale e nella stessa sparatoria perde Johnny, quello che ai tempi era il suo migliore amico. Ciò segna un altro momento chiave nella vita di 21 Savage perché subito dopo decide di incominciare a rappare e viene aiutato proprio dallo zio del suo amico deceduto che gli passa i primi soldi per pagarsi lo studio. Il 12 novembre 2014 esce Peaky, il suo singolo di debutto che poi andrà anche a far parte di The Slaughter Tape, il suo primo mixtape droppato a maggio del 2015. Sempre durante lo stesso anno usciranno Free Goo Wap, un EP insieme a Sony Digital, che è un produttore chiaramente dedicato a Gucci Mane, ma anche Slaughter King, il suo secondo mixtape. Attira l'attenzione di diversi magazine, tra cui uno in particolare, Interview Magazine, che definisce il rapper come un eroe nell'underground di Atlanta. Addirittura a giugno 2016 rientra nei dieci nomi designati da XXL per il freshman class di quell'anno, una delle edizioni anche più epiche di sempre. Insieme a lui infatti troviamo rapper come Lil Uzi Vert, Liliohti, Kodak Black e molti altri. Un mese dopo, a luglio, esce Savage Mode, un album barra EP in collaborazione con Metro Booming che cambierà totalmente la vita del rapper. Si posiziona ventitresimo nella Charlie Billboard, il che è comunque un ottimo risultato perché teniamo conto che è il primo progetto a tutti gli effetti ufficiali di 21 Savage. Formato da nove tracce, un solo feat future nella canzone X, anche una delle più potenti dell'album a mio avviso, e sarà anche il primo singolo di 21 a fare disco di platino. Invece per quanto riguarda le produzioni, oltre a Metro, che è stato anche l'executive producer dell'album, troviamo qualche beat coprodotto insieme a Sony Digital, Southside, Zethoven e qualcun altro. Questo progetto emana cattiveria da ogni punto di vista. La voce di 21, i beat, i flow, ma anche i testi. Racconta la street life nella maniera più cruda possibile, senza alcun tipo di filtro. Un'attitudine davvero e proprio gangster che viene ancora resa più potente dalle produzioni di Metro Boomy. Ma questo è solo l'inizio del rapporto dei due che porterà a una serie di hit negli anni, ma soprattutto al secondo capitolo. Il 18 gennaio 2017 firma un contratto con Epic Records e qualche mese più tardi esce Issa Album, il suo primo album studio. Debutta al secondo posto della chart di Billboard vendendo 77.000 copie e proprio l'anno scorso è stato certificato anche disco di platino. Il titolo prende spunto da Issa, un singolo con Yantag e Drake che chiaramente avrebbe dovuto far parte dell'album, ma alla fine fu leakato qualche giorno prima dell'uscita di quest'ultimo e ciò spinse 21 Savage a scartarlo. Questo è davvero un peccato perché la traccia è devastante, non essendo mai uscito ufficialmente anche poche persone ne sono a conoscenza. A differenza di Savage Mode qui troviamo un 21 Savage decisamente più vario, ci sono anche canzoni chill e in generale con un mood ben diverso da quello che siamo stati fino a quel punto abituati a sentire da lui. Questa è una cosa che personalmente apprezzai tanto, mi piacque l'idea comunque di provare a fare qualcosa che magari in passato non aveva fatto, ma ai tempi mi ricordo che l'album fu soggetto di varie critiche perché la maggior parte del pubblico voleva il 21 Savage cattivo. Una piccola curiosità che a partire da quest'anno, ma in realtà l'ha fatto anche nel 2016, 21 Savage organizza degli eventi che si tengono ogni anno intitolati Is Back to School Drive, in cui essenzialmente regala scorte di cibo, taglie di capelli, uniforme scolastiche e tutte queste robe insomma ai ragazzi del suo stesso hood. E chiaramente è un bel gesto visto che la gente che comunque cresce neghetti è generalmente povera e criminale, quindi è un buon modo di provare a toglierli dalla strada. Ma non finisce qui per quest'anno perché come se non bastasse esce Rockstar, un singolo di Post Malone in collaborazione con 21, una canzone che poi ai tempi gli ha permesso di ampliarsi a un pubblico decisamente più mainstream, ma droppa anche Without Warning, un joint album con offset dei Migos totalmente prodotto da Metro Booming. Qua sicuramente da menzionare c'è Ric Flair Drip, una delle hit più grandi ai tempi, che andò anche abbastanza viral con tanto di video e tuttora una delle hit più potenti sia di 21 Savage che di Offset. Insomma, il 2017 è stato un anno bello intenso per il rapper e possiamo affermare tranquillamente che si è consacrato nella scena americana. Nella prima parte del 2018 invece lo troviamo per lo più impegnato in qualche apparizione in progetti o singoli dei suoi colleghi. Giusto per citarne qualcuno, Here No Evil di Young Tag, Bitch House 3 di Tidal Assign e Simi Mixtape di Block Boy JB. Verso la fine dell'anno, il 6 dicembre, annuncia I Am, I Was, il titolo del suo secondo album studio in uscita il 21 dello stesso mese. Vende 131.000 copie posizionandosi direttamente al primo posto della chart di Billboard e questo costituisce un record per 21 Savage perché è il suo primo album in solo che arriva al primo posto della classifica. La cosa che più mi colpisce di lui è che è uno dei pochissimi rapper che è ogni progetto che ha droppato è riuscito sempre a fare piano piano un blow up, migliorando sia musicalmente ma anche nei testi. Ha iniziato la carriera come uno dei più forti a fare trap, possiamo dire, ma ha sempre continuato a crescere singolo dopo singolo, finendo per diventare attualmente a mio avviso uno dei rapper più forti in circolazione. Sono diverse le hit e i featuring di questo album, ma sicuramente da menzionare c'è Hell Hot con J. Cole, che poi consentirà a 21 Savage di vincere il suo primo Grammy. Avendo droppato un album praticamente alla fine dell'anno, il 2019 sarà molto povero e se dobbiamo dircela tutta esce solo Immortal, un singolo, più chiaramente qualche featuring qua e là. Magari qualcosa da ricordare di questo anno è il suo arresto, perché la notizia fece anche abbastanza scalpore e 21 Savage era a tutti gli effetti un clandestino in America, perché come abbiamo detto a inizio video, a 7 anni si è trasferito ad Atlanta dopo essere nato a Londra e probabilmente i documenti gli erano scaduti. Tuttavia, senza dilungarmi troppo, ad oggi è una situazione risolta anche se non totalmente, visto che il suo caso è ancora aperto. Arriviamo così a febbraio 2020, se ne parlava già da diversi anni, ma a questo giro sembra realtà, è vicino il secondo capitolo di Savage Mode. Il 28 settembre appare su YouTube un video diretto da Gibson Hazard con la narrazione di Morgan Freeman in cui Metro Booming e 21 Savage annunciano Savage Mode 2 per il 2 ottobre. All'uscita debutta il primo posto in classifica Billboard vendendo 171.000 copie, ma la vera domanda è, è all'altezza del primo? A mio avviso assolutamente sì, nonostante preferisco il primo per una questione di affetto e iconicità, se si può dire così. Ma c'è da dire che musicalmente parlando questo album è nettamente superiore. Non è totalmente incentrato sul mood spietato del primo, è più vario. Ci sono canzoni con sfumature R&B come Rip Love, altre più easy come Mr. Right Now con Dre, con Rich Nigger Shit con Young Tag, che poi sono anche le due che mi sono piaciute di meno, ma questi sono dettagli. Altri pezzi ancora con influenze anni 90 o 2000 come Steppin' on Niggas e Many Men, ma soprattutto non possono mancare chiaramente i pezzi trap. E non posso fare altro che citare hit clamorose come Sliding o Glock in My Lap, ma ce ne sono davvero tante altre. Insomma, in questo album troviamo un 21 Savage al suo apice di forma. E ripeto ancora una volta, uno dei rapper più forti al momento in circolazione. Non finisce qui perché ad aprile esce il singolo Let It Go con Justin Bieber, però è di DJ Khaled tratto proprio dal suo ultimo album Khaled Khaled. Il 14 maggio invece, insieme alla sua etichetta Slaughter Gang, droppa a Spiral un EP di quattro tracce che funge anche da colonna sonora dell'omonimo film uscito quest'anno dalla saga di Saw. Lo stesso giorno esce anche My Life, una canzone di J.Cole tratta dal suo ultimo album The Off Season. Non si sa ancora nulla riguardo un suo prossimo progetto, ma proprio qualche settimana fa ha postato questo tweet, in cui magari lascia sottintendere che un suo prossimo album possa essere qualcosa a metà tra la trap e l'R&B. Insomma, staremo a vedere. Io personalmente sono abbastanza curioso di quel che potrà succedere e non ci resta che aspettare. Voi invece cosa ne pensate? Siete in high per un prossimo album di 21 Savage? Cosa ne pensate di lui come artista? Con quale canzone l'avete conosciuto? E se mi volete dire anche la vostra canzone preferita al vostro album? Ditemi tutto questo qui sotto nei commenti, se il video vi è piaciuto come sempre vi invito a lasciare un mi piace nel caso in cui non lo foste, iscrivetevi al canale. Se lo siete già, attivate la campanellina così non vi perdete ogni contenuto che carico qui sopra. Condividete questo video con quanta più gente volete e potete. Noi ci vediamo ad un prossimo slat!